La stilista Vivian Westwood come forse non l'abbiamo mai vista. Ma anche Marc Jacobs e Kate Moss, icone della moda, serenamente immortalate nelle pose più disinibite. Per Jürgen Teller, molte celebrità si lasciano un po' andare. Famoso per le sue immagini sulle riviste di moda più patinate, ora i suoi soggetti sono per lo più spogliati, nella mostra che il fotografo tedesco ha inaugurato all'Istituto di Arte Contemporanea di Londra. Scatto ritratti e faccio foto di moda, per me è molto importante lavorare anche su progetti personali e così ho voluto mischiare le due cose in questo tipo di mondo visionario che appartiene solo a me. Non solo il carisma dei volti più noti del mondo della moda e dell'intrattenimento, le foto di Jürgen Teller sono rinomate per l'abilità di inviare messaggi contraddittori con semplici scatti, pensati però nei minimi particolari. L'intera mostra, dice il fotografo, vuole offrire ai visitatori una impressione personale su di lui. Non ho una foto preferita. No, la mostra parla di me nel suo insieme, non di una foto in particolare. Una mattina mi posso svegliare e pensare, oh, questa è la foto che preferisco. Poi due giorni dopo, magari piove mentre gioco con mio figlio, all'improvviso è la sua foto la mia preferita. Davvero non ho preferenze, ci sono un sacco di foto che penso siano buone. Teller così si racconta, inserendo nella mostra anche molte foto della sua famiglia, cani e gatti, ed un audace repertorio che rappresenta la prima vera esposizione dell'artista degli ultimi dieci anni. La mostra all'Istituto di Arte Contemporanea di Londra è aperta fino al 17 marzo.